Il caso di dire è buona la prima perché sabato e domenica abbiamo fatto circa 5.300 tamponi ai quali vanno aggiunti quelle delle scuole, quindi siamo arrivati circa 6.000 tamponi sulla popolazione di 26.000 persone, 25 positivi, quindi una percentuale del 0,43%, significa meno di uno su ogni 200 abitanti. Quindi vogliamo proseguire, anche perché la situazione è preoccupante invece dal lato dei positivi, da ciò che ci arriva dai test molecolari. Oggi su Francavilla abbiamo 210 positivi, questo significa che siamo saliti a una percentuale dello 0,80% della popolazione, significa che Natale e Capodanno hanno fatto danni, perché voi pensate che a fine anno eravamo a 23 positivi, il mese di gennaio ci ha portato ben 190 positivi in più. Questo significa che non dobbiamo abbassare la guardia, che dobbiamo stare attenti alla zona gialla abruzzese e dobbiamo pensare che se oggi potessimo calcolare l'indice RT solo per la città di Francavilla saremmo in piena zona rossa. Quindi assolutamente stare attenti, continuare con gli screening di massa. In questo ho avuto la collaborazione del direttore generale della ASL, Thomas Schell, che ringrazio. Quindi, come vi dicevo, Palazzo Sirena, mercoledì, giovedì e venerdì, apertura 8.30, chiusura 13.30, dopo si riprende pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30. Per tutti e tre i giorni possono venire anche persone che non sono residenti anagraficamente, ma che gravitano nel nostro territorio perché ci lavorano, hanno parenti o amici. E quindi invito quanta più popolazione possibile a partecipare, come hanno fatto già nello scorso weekend. Proprio stamattina ho appreso di un'ulteriore classe che è andata in quarantena. Le classi in quarantena iniziano a essere, mi sembra, sei o sette, quindi un numero che inizia a essere, si cresce sempre di più. Devo dire, a onor del vero, che non abbiamo notizia di contagi avvenuti per il tramite delle scuole. Cioè non si stanno verificando focolai all'interno delle classi. Quindi il sistema dell'isolamento della classe funziona e deve continuare necessariamente così. Certo, dare qualche giorno di stop alle scuole cittadine, io la riterrei una scelta giusta, magari auspico che il governatore Marsilio voglia intervenire in tal senso.